Un cordiale saluto dalla redazione di Flores Multimedia in studio Marco Gargini. Per il momento il traffico scorre in maniera regolare sull'intera rete autostradale toscana e sulla FIPILI. Sulla statale 1 Aurelia, tratto chiuso per lavori 3 km 274,700 e 277,750 tra Donoratico e Cecina Centro in direzione nord. Sempre per gli stessi lavori e ancora in direzione nord è chiuso lo svincolo di Cecina Sud. Sulla statale 12 della Betone del Brennero, senso unico alternato per Frana al km 68 e 950 tra Popiglio e la Lima. Infine per quanto riguarda gli aerei è stato proclamato uno sciopero di 4 ore per l'aeroporto di Pisa dalle 13 alle 17. Muoversi in Toscana Info è un servizio in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana e Comune di Firenze. Buon viaggio! Buon viaggio!